ci sente e neanche la giustizia amministrativa ha seguito l'articolo 83. Ecco perché all'inizio parlavo del rinvio esterno perché se l'articolo 39 mi manda il codice di procedura civile, il codice di procedura civile per la procura all'eliti così si esprime ritenevo e pensavo che quantomeno per la procura all'eliti anche nella giustizia amministrativa ne potessimo attestare la conformità sottoscrivendo digitalmente il file ma siccome l'ufficio complicazione cose facili è sempre quello più attivo da un punto di vista diciamo così del legislatore ecco che cosa prevede invece l'articolo 8 del regolamento a proposito proprio della procura all'eliti. Innanzitutto prevede due modalità di formalizzazione della procura all'eliti una prima modalità interamente telematica è scritta in maniera molto contorta la norma indicata al comma 1 io la traduco in maniera molto più semplice cosa significa quello che c'è scritto nel comma 1 significa che se il nostro cliente ha un dispositivo di firma digitale io la procura all'eliti la posso preparare con il mio software di videoscrittura la trasformo direttamente in pdf testo la faccio firmare digitalmente al mio cliente e la firmo poi digitalmente anch'io senza stamparla senza dover attestare la conformità è un originale informatico lo veicolo tramite deposito telematico e il ho raggiunto l'obiettivo comma 2 e qua vengono i problemi nei casi in cui la procura è conferita su supporto cartaceo quindi diciamo il 90 per cento delle situazioni che ci troveremo e che in cui già ci troviamo davanti il difensore procede al deposito telematico della copia per immagine sul supporto informatico la scansione compiendo però l'asseverazione prevista dall'articolo 22 comma 2 del cad con l'inserimento della relativa dichiarazione nel medesimo o in un distinto documento sottoscritto con firma digitale allora attenzione fa riferimento per l'attestazione di conformità anzi per la modalità e l'attestazione di conformità a quanto previsto dal cad chi di voi non conosce il cad tutti lo conoscete vero quanti lo conoscono no ditelo perfetto la statistica viene rispettata anche a modena tranquilli tranquilli anzi per dire a dire la verità la collega dice io lo conosco alzato la mano alzato la mano bene non faccio il nome ma è proprio vicinissima a modena sono stato ieri quindi però non faccio il nome qualcuno ieri ha detto alzato la mano poi però ha specificato no no allora non è quello che a cui fa riferimento lei ma il programma che utilizza mio fratello per fare i calcoli per il cemento armato era il cad proprio il programma l'auto cad quel programma che usano gli ingegneri quindi tranquilli non c'è nessun problema questo è un altro nostro problema ma nostro di tutti anche mio è non non soltanto il cad è proprio il codice dell'amministrazione digitale quello che risolve molti problemi da un punto di vista dell'informatica giuridica applicata soprattutto al processo ma anche lì nonostante sia stato pubblicato nel 2005 poi abbia avuto diverse modifiche non non siamo riusciti ancora a cogliere veramente l'importanza nel doverlo studiare con con cura e con attenzione ma piano piano ci arriveremo ma dicevo si fa riferimento quindi all'articolo 22,2 del codice dell'amministrazione digitale quindi vedete compiendo l'asseverazione inserendo la relativa dichiarazione o nel medesimo documento informatico che ho ottenuto dalla scansione o in un documento informatico separato sottoscritto con firma digitale vediamo adesso che cosa dice questo articolo 22,2 del codice dell'amministrazione digitale forse volevi intervenire prego è che dovremmo fare un esame integrativo all'università sul cad perché adesso a parte gli scherzi anche noi negli anni che abbiamo lavorato insieme e quando dovevamo mettere mano al cad devo dire che ci abbiamo veramente perso giornate perché tra la versione iniziale le modifiche i riferimenti e purtroppo un esempio è questo delle autentiche bravissima è vero questo è un grosso problema che ci stiamo portando dietro per cui tu hai perfettamente ragione quando dici dovremmo metterci tutti a studiare ma è vero ma tutti il primo sono io ma non ce la facciamo ragazzi cioè già abbiamo delle norme che cambiano in continuazione in più abbiamo delle regole tecniche anche queste che cambiano in continuazione guardate sulle notifiche tramite pec lo vedevo proprio ieri ci sono circa 7 8 provvedimenti normativi che dal 2011 ad oggi si sono susseguiti capisco che sia una opportunità e sia un vantaggio notificare tramite pec ma non è neanche facile stare al passo con tutte le modifiche modifiche che poi sono sostanziali e che prevedono che da domani non si faccia più quello che ormai fino a ieri si faceva e che avevo imparato e che avevo conosciuto cioè si cambia di punto in bianco completamente tutto tutto diciamo così il discorso ma torniamo al cad l'articolo 22 comma 2 del cad dice che le copie per immagine su supporto informatico quindi le scansioni hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale con dichiarazione autorizzato con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 sempre del cad quindi dall'articolo 22 andiamo a vedere che cosa dice l'articolo 71 l'articolo 71 dice che le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate con decreti da parte del presidente del consiglio dei ministri o dal ministro delegato per la pubblica amministrazione eccetera eccetera bene vediamo quali sono questi decreti in particolar modo qual è questo decreto perché il cad non dimentichiamolo è del 2005 il decreto dal 2005 è stato emanato e pubblicato in gazzetta ufficiale il 13 novembre del 2014 e questo è il famoso famigerato e temuto articolo 4 proprio di questo dpcm che ci dice come dobbiamo comportarci quando dobbiamo attestare la conformità nella copia per immagine sul supporto informatico proprio di un documento analogico allora innanzitutto questo dpcm guardate lo leggeremo adesso in maniera molto più precisa però questa slide per evidenziare come preveda due modalità per attestare la conformità la prima all'interno dello stesso documento informatico e la seconda su un documento informatico separato cominciamo a vedere la prima delle due modalità quella da inserire all'interno dello stesso documento informatico come si appone una conformità all'interno di un pdf che è ottenuto dalla scansione così come richiede l'articolo 4 comma 3 del dpcm del 13 novembre 2014 partiamo quindi dal cartaceo scansioniamo il cartaceo otteniamo il pdf una volta che ho ottenuto il pdf devo inserire questa attestazione all'interno del pdf che ho creato prima di allegarla al modulo del deposito e soprattutto prima di allegarla al modulo del deposito devo firmare digitalmente la stessa copia informatica vedete sotto scritto attenzione firma pades perché abbiamo detto che nell'amministrativo telematico la firma cades non è assolutamente consentita quindi dobbiamo firmare per forza con l'altra tipologia di firma quella pades bes che ripeto ancora una volta è già presente nel nostro dispositivo di firma qualsiasi esso sia sia infocert sia ruba sia altre software house qualsiasi dispositivo di firma contiene all'interno anche oltre la firma cades anche la firma pades ma come si appone l'attestazione di conformità guardate è più facile farlo che spiegarlo ma probabilmente già qualcuno di voi si è cimentato con questo tipo di attestazione innanzitutto si utilizza si può utilizzare quello stesso software che dobbiamo utilizzare per depositare gli atti cioè l'adobat reader dc è quello che avete visto l'acrobat reader dc quello che avete visto prima è una volta scansionata per esempio la procura all'eliti la apriamo come un semplice come apriamo diciamo un qualsiasi file pdf e vedete che ci sono in alto una serie di icone no strumenti compila e firma e commento se noi clicchiamo su compila e firma si apre un menu a tendina poi magari le versioni sono diverse ma i nomi delle diciamo delle funzioni sono assolutamente le stesse cliccando su compila e firma poi clicchiamo su aggiungi testo a questo punto possiamo tranquillamente posizionarci in qualsiasi parte del monitor nel quale vogliamo inserire la nostra attestazione di conformità con il mouse proprio mi posiziono per esempio al di sotto dello spazio dove c'è scritto procura all'eliti e qui posso inserire una qualsiasi un qualsiasi diciamo riferimento testuale scrivere quello che voglio attenzione anche qui l'attestazione di conformità è molto sintetica la mia vedete non fa riferimenti non ci sono riferimenti normativi non ci sono leggi dei decreti leggi conversioni sintetizziamo al massimo quella che è l'attestazione ciò che conta è che noi dichiariamo e attestiamo che conforme all'originale non conta la modalità con cui ne attestiamo la conformità molti colleghi continuano ad ostinarsi a fare dei papiri quando devono attestare la conformità relate di notifica me ne sono arrivate alcune perché magari il collega mi chiede di dare un'occhiata se ha fatto una relata di notifica giusta oppure non giusta e alcune arrivano sei pagine sette pagine tre pagine per la relata tre pagine per l'attestazione di conformità cose allucinanti ma perché dico dico questo non io capisco perfettamente il collega che mette di tutto e di più nel relato nell'attestazione perché teme l'eccezione teme che non citando la norma il collega di controparte non sappia qual è la norma che conferisce al collega che l'ha effettuata quell'attestazione oppure teme che il giudice possa disconoscere magari molte cose che hanno a che fare col telematico guardate quello che a noi deve servire è soltanto la certezza di attestare il vero dopodiché possiamo scrivere semplicemente anche in maniera molto più sintetica di come vedete nella slide è conforme all'originale basta basta siamo pubblici ufficiali non dimentichiamocelo il cancelliere quando ci rilascia nelle cancellerie la conformità cosa scrive il reggio decreto o la norma con la quale ha il potere di fare ciò o indica l'articolo di riferimento no è conforme all'originale data timbro e firma e perché noi non possiamo fare la stessa cosa se abbiamo lo stesso identico potere evitiamo noi di crearci problemi e di crearli agli altri non so se vi sia mai capitato un collega che vi abbia chiesto mi hanno notificato in cartaceo tramite magari al cliente hanno notificato in proprio un atto tramite l'ufficio postale c'era allegata l'attestazione di conformità spillata su un documento cartaceo quindi separato mancano i timbi di congiunzione posso sollevare l'eccezione per i timbi di congiunzione vuoi sollevare l'eccezione di che e dove sta scritto che devono esserci i timbi di congiunzione no ma perché alcune mi arrivano con i timbi di congiunzione poi c'è anche la fascetta quindi probabilmente se mancano i timbi di congiunzione l'atto non si può dire che materialmente è collegato all'attestazione che sia collegata all'atto a cui si riferisce l'attestazione stessa non complichiamoci la vita e soprattutto non solleviamo eccezioni banali perché prima o poi troveremo qualcuno che ci bacchetta e se poi ci attribuiscono l'articolo 96,2 per la responsabilità aggravata perché non consentiamo alla giustizia di procedere in maniera celere non lamentiamoci perché forse in qualche circostanza e se facciamo un attimo chiarezza dentro noi stessi ci rendiamo conto che forse qualche volta esageriamo evitiamo di sollevare quelle eccezioni che sono palesemente infondate non servono a nulla assolutamente a nulla dobbiamo collaborare ci dobbiamo voler bene tra di noi dobbiamo cooperare a noi non ci vuole bene più nessuno il legislatore non ci considera il cliente o i cittadini ci considerano grazie a tutte quelle tra virgolette politiche che si fanno in televisione la categoria che evade e che ha fatto sì che l'Italia sia arrivata sul baratro perché noi siamo i più ricchi ma siamo anche quelli che dichiariamo di meno questo ormai è pacifico se non ci aiutiamo tra di noi e non dimostriamo al collega solidarietà invece che approfittare anche di un errore io vi dico questo io non ho mai sollevato un'eccezione da un punto di vista tecnico informatico non lo farei mai mi sembrerebbe di di approfittare di un qualcosa che non 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 mi sembra giusto non mi sembrerebbe corretto cerchiamo di aiutarci se il collega notifica qualcosa che secondo voi è sbagliata chiamatelo cioè guarda che hai notificato così forse dovevi fare in quest'altra maniera ma io mi costituisco io lo faccio sinceramente poi magari deontologicamente troverò un ordine il mio magari che riterrà che io non abbia a sufficienza tutelato il mio assistito ma io prima di tutelare il mio assistito che tutelo comunque in altra maniera perché credo che le controversie sia belle vincerle nel merito sia bello vincerle nel merito e magari con quelle eccezioni processuali che il codice di procedura civile ha segnato e già ce ne sono tante io credo di dover tutelare ancora di più il mio rapporto con il collega perché il cliente passa il collega ogni mattina io lo incontro in tribunale e voglio guardarlo sempre negli occhi non voglio aver avuto la possibilità tra virgolette di fregarlo perché magari ho qualche conoscenza informatica giuridica in più di lui non mi piace fare questo e vorrei che ognuno di noi magari nel suo piccolo potesse comportarsi così anche perché molte di queste eccezioni portano sia no a delle pronunce di irregolarità cioè non è che portano a delle nullità o inesistenze cioè adesso abbiamo più giurisprudenza sul civile sul patto ovviamente no però abbiamo visto che a parte le prime pronunce eclatanti ormai pronunce di inesistenza non ne abbiamo più assolutamente no rare quelle di nullità ormai sono tutte irregolarità per cui ci andiamo veramente non dico a complicare la vita sì va bene facciamo bella figura eccetera io lo dico in questi anni io ne ho sollevata una sola ma al di là del deposito sbagliato ci sono sempre le eccezioni no non aveva firmato digitalmente la memoria ragazzi non so come sia riuscito a depositarlo ma al di là di questo non era firmata la memoria per cui a quel punto è come se non mi avesse firmato cioè non era firmato l'atto ma tutto il resto sono eccezioni irregolarità per cui non ci portano neanche processualmente a dei risultati e a conferma di quello che dice Daniela c'è proprio una sentenza della Cassazione a sezioni unite se non sbaglio della fine di aprile del 2016 che in un certo qual modo vuole essere anche un po' vuole fare da monito proprio su quello che sia Daniela che io abbiamo detto poc'anzi cioè la Cassazione dice si parla sempre di nullità di una notifica effettuata tramite PEC ma la Cassazione stende quel principio alle nullità in generali e ancora una volta ribadisce Cassazione e sezioni unite ribadisce che la nullità comunque se l'atto raggiunge lo scopo è sanata 156 non ci piove per cui è inutile star lì a sollevare l'eccezione a scrivere pagine su pagine su un qualcosa che è nullo perché nel momento in cui io comunque deduco e eccepisco quella nullità l'ho già superata perché la nullità si è già sanata la Cassazione inoltre afferma un altro principio l'eccezione che viene sollevata poi non solo deve essere spiegata da un punto di vista appunto della nullità che viene indicata ma deve anche essere indicato il pregiudizio che quella determinata irregolarità ha portato a chi ha ricevuto l'atto al destinatario dell'atto al punto tale per esempio da impedirgli o da limitargli il suo diritto di difesa e quindi il famoso principio del giusto processo in mancanza di questa ulteriore presenza di questo ulteriore elemento anche un'eventuale eccezione comunque non potrebbe essere accolta questa è la strada che segna la Cassazione a sezioni unite che secondo me vuol dirci avvocati col telematico cercate di non fare tanto i furbi perché tanto se poi arrivate qui e non si può parlare di inesistenza ma si parla di semplice nullità nel momento in cui la nullità stessa viene sollevata essendosi costituita la parte c'è automaticamente il fatto che la stessa appunto si sani cosa dobbiamo ricordarci una volta inserita l'attestazione di conformità di salvare il documento perché se non salviamo perdiamo le modifiche che abbiamo apportato al pdf e poi il CAD ci dice che dobbiamo firmare digitalmente questo file prima di depositarlo e quindi prima di allegarlo al modulo ma attenzione è il dpcm che ci dice che dobbiamo firmarlo laddove richiesta è l'attestazione di conformità delle copie per immagine sul supporto informatico può essere inserita nel documento informatico il documento informatico così formato è sottoscritto con firma digitale quindi il dpcm ci dice devi sottoscriverlo con firma digitale l'articolo 6 delle regole tecniche del processo amministrativo telematico al comma quinto e questo è l'articolo a cui facevo riferimento prima dice che i documenti digitali da allegare ai moduli di cui ai commi 1 e 2 quindi deposito del ricorso e poi deposito di tutti gli allegati sono inseriti in un unico contenitore cioè il modulo pdf la firma digitale pades di cui al comma 4 si intende estesa a tutti i documenti e agli atti in essa contenuti questa è quella famosa norma che magicamente estende la firma del modulo a tutto ciò che il modulo contiene allora è lecito e spontaneo chiedersi che cosa si debba fare per esempio nel caso in cui io attesto la conformità all'interno del documento informatico il dpcm al quale mi rimanda la regola tecnica del PAT mi dice che devo firmare digitalmente la regola tecnica del PAT invece mi dice che posso anche in teoria non firmarlo perché firmando il modulo quella firma si estende anche a tutto ciò che nel modulo è inserito io il consiglio che vi do per non sapere né leggere né scrivere è di firmarlo digitalmente perché poi non sappiamo un domani che cosa potrà decidere per esempio il consiglio di Stato e soprattutto le diverse sezioni del consiglio di Stato che per esempio nelle notifiche tramite PEC non hanno dato sicuramente modo di pensare che siano allineati e coperti su ragionamenti e su orientamenti univoci vediamo la seconda modalità quella relativa quindi al documento informatico separato ed è quella prevista appunto dall'articolo 8 del regolamento l'asseverazione può essere prevista in un documento informatico separato sottoscritto anche questo in un distinto documento sottoscritto con firma digitale cosa significa? Significa che faccio la scansione allego la scansione al modulo pdf dopodiché l'attestazione non la faccio nella modalità con cui abbiamo visto adesso ma la faccio su un documento informatico separato cioè preparo per esempio apro word scrivo tribunale amministrativo di attestazione di conformità il sottoscritto avvocato dichiara e attesta la conformità del presente file eccetera eccetera salvo direttamente in pdf quel file e lo firmo digitalmente questa è l'attestazione di conformità in un distinto documento sottoscritto con firma digitale ma attenzione perché e qua c'è il dramma più totale perché in questo caso sempre il comma terzo ultimo capoverso del dpcm dell'articolo 4 del 13 11 2014 mi dice che l'attestazione di conformità può essere altresì prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia per immagine cioè torniamo di nuovo a dover attestare la conformità inserendo l'esce e il riferimento temporale vi ricordate che avevamo inserito esce e riferimento temporale per le copie informatiche sul documento informatico nel processo civile telematico non gliel'ho mai fatto fare a Modena vista la mia teoria che non era applicabile meglio me ne ero assunta la responsabilità il problema è che adesso nell'amministrativo telematico dobbiamo per forza farlo ma attenzione dobbiamo farlo solo quando attestiamo la conformità su un documento informatico separato e quindi dobbiamo inserire l'esce e riferimento temporale ma quando noi in pratica dobbiamo necessariamente e obbligatoriamente farla su documento informatico separato l'attestazione di conformità della procura all'eliti quando per esempio notifichiamo tramite PEC il nostro ricorso perché perché la legge 53-94 sulle notifiche improprio ci dice che all'articolo 3 bis se io allego alla PEC per la notifica copie informatiche cioè documenti informatici che ho ottenuto dalla scansione di un documento cartaceo l'attestazione di conformità devo farla nella relata di notifica la relata di notifica è un documento informatico separato e siccome è un documento informatico separato devo farla per forza ai sensi e per gli effetti del comma terzo dell'articolo 4 del DPCM e quindi nella relata di notifica attesterò la conformità della procura all'eliti che è ottenuto dalla scansione della procura cartacea dovendo inserire anche l'esce e il riferimento temporale qua dovremmo essere tutti i tecnici informatici motivo per cui giustamente Daniela ha detto io non ve lo faccio fare in questa maniera nel civile però purtroppo nell'amministrativo credo che anche Daniela si dovrà per forza di cose era una scelta quella del civile perché poi vabbè è uscita l'interpretazione autentica perché appunto faceva riferimento al CAD per cui non si capiva perché per analogia doveva andare al processo civile telematico che non aveva la connessione diretta col CAD questa era una scelta che avevamo condiviso in tanti di noi poi è chiaro che era un'assunzione di responsabilità perché ma assolutamente io condividevo con te ed ho scritto anche fiumi di parole su questa cosa e la cosa più bella è che lì ci hanno praticamente imposto l'utilizzo del CAD che poi però a distanza di otto mesi sei mesi perché è entrato in vigore a febbraio del 2015 l'hanno tolta a luglio del 2015 proprio con la legge 132 del 2015 ce l'hanno tolta l'esce riferimento temporale qui che potevano far riferimento all'articolo 83 del codice di procedura civile che per la procura prevede semplicemente la posizione della firma digitale ce l'hanno riproposto di nuovo e quindi di nuovo si riportano al CAD però fortunatamente senza essere informatici abbiamo la possibilità di calcolare velocemente rapidamente l'esce riferimento temporale da inserire nella attestazione di conformità sul documento informatico separato perché c'è un'applicazione bellissima che il sito è apps.dirittopratico.it lo trovate così su google ma se mettete anche dirittopratico tranquillamente viene fuori è un sito che gestisce un collega si chiama Claudio Destasio e ha creato tutta una serie di applicazioni gratuite naturalmente che ci consentono di fare tantissime cose che agevolano diciamo la nostra attività non solo nel telematico ma anche diciamo al di fuori del telematico qua per esempio vedete voglio fare una checklist su tutti gli adempimenti del PCT oppure devo predisporre una relata di notifica devo predisporre eccetera eccetera se io vado a scorrere nella pagina iniziale in questo menu vedete che trovo anche l'applicazione per calcolare l'impronta ed estrarre il riferimento temporale da un file quindi semplicemente cliccando su proprio qui in questo campo in questo spazio si apre una nuova schermata dove il sistema che cosa ci chiede di selezionare dal nostro computer il file nel quale diciamo abbiamo la procura all'eliti che abbiamo scansionato scegli praticamente file quando io scelgo il file e allego quindi la procura all'eliti immediatamente dopo il sistema mi calcola sia l'hash e sia il riferimento temporale per cui vedete che non devo fare altro che fare il copia incolla di questa impronta esce evidenziata dalla freccia il copia incolla del riferimento temporale lo metto per esempio in calce alla relata di notifica quando faccio l'attestazione di conformità della procura all'eliti sottoscritto difensore da ultimo attesta la conformità della procura all'eliti il file procura all'eliti esce due punti e incolla quanto copiato da questo sito e la stessa cosa incollerà anche il riferimento temporale abbiamo assolto alla modalità con cui va attestata la conformità sul documento informatico separato di una copia informatica anche qui quindi la soluzione si trova ripeto sarebbe stato più semplice applicare direttamente quanto previsto dall'articolo 83 procura all'eliti quando viene firmata digitalmente noi la firmiamo digitalmente chiaramente fuori anche nel civile fuori dal magari dal redattore oppure ci affidiamo al redattore che poi automaticamente ci obbliga a firmarla quando l'abbiamo portata all'interno del nostro programma con cui facciamo i depositi nel PAT abbiamo detto che non c'è un redattore quindi dobbiamo inserire nel modulo pdf la procura già sottoscritta digitalmente il file già sottoscritto digitalmente anche qui il discorso che abbiamo visto prima teoricamente applicando quel famoso articolo potrei anche non sottoscrivere digitalmente la procura all'eliti perché inserendola nel modulo e firmando il modulo poi quella firma si estenderebbe sulla procura ma chiaramente io quello che consiglio è di firmarla l'unica cosa l'accortezza che dovete avere sempre è di non firmare con l'estensione P7M quindi con il Cades ma di firmare soltanto con la firma Pades onde evitare in futuro appunto problemi questa slide riepiloga anche il discorso che facevamo prima dell'articolo 5 dell'articolo 6 il comma 5 passiamo adesso a vedere quali sono i formati che sono ammessi nel processo amministrativo telematico cioè quali formati possiamo depositare telematicamente qua guardate è meravigliosa la cosa perché non perdiamo di vista il fatto che dobbiamo firmare in Pades e in Pades possiamo firmare solo file pdf è meraviglioso che ci dia la possibilità sia le regole tecniche che le specifiche tecniche di depositare teoricamente i nostri atti anche in semplice formato txt e in semplice formato rtf che sono formati banalissimi che vengono effettuati con i programmi di videoscrittura ma che chiaramente non possono essere firmati in Pades perché in Pades può essere firmato soltanto il file pdf quindi mi chiedo da un lato perché dare la possibilità di depositare questi formati se poi non è possibile firmarli digitalmente dall'altro forse capisco ma mi sembra veramente assurdo che il motivo sia questo che quella scappatoia che abbiamo visto del comma 5 dell'articolo 6 del regolamento cioè firmando il documento firmando diciamo il modulo tutto si estende la firma si estende anche a ciò che è allegato teoricamente se io il mio atto lo vado a redigere in TXT e poi lo allego al modulo pdf non lo posso firmare in Pades ma firmo in Pades il modulo e si intende firmato anche l'altro a me sembra una cosa che fa impazzire però così le regole delle specifiche tecniche prevedono e così io vi devo dire che in effetti le cose stanno possiamo utilizzare anche qui come nel processo civile telematico il file compresso sia il winzip sia in formato zip che è in formato in formato LAR a condizione chiaramente che questi file contengano i file consentiti per il deposito quindi o file pdf o file txt o file diciamo rrtf è fondamentale che cosa quando parliamo di pdf attenzione quando parliamo di un pdf è fondamentale che il pdf anche qui non sia un pdf ottenuto dalla scansione quando parliamo del nostro atto tutti i nostri atti devono come per il processo civile telematico non devono essere scansionati dal cartaceo devono essere direttamente trasformati in pdf dal software di videoscrittura con cui li abbiamo preparati quindi prima preparo in word e poi trasformo assolutamente in pdf anche qua non dimentichiamoci mai di firmare il nostro atto solo ed esclusivamente con la firma pades vedete molte volte le slide si ripetono però io temo molto questo tipo di firma e temo molto anche il fatto che non si possa firmare col cades sapete perché temo molto questo perché ho fatto una prova e ho fatto un deposito con la firma cades non succede niente viene accettato ma non vorrei che poi ci fosse qualche pronuncia strana perché il fatto che venga accettato e che non ci venga per esempio fatto presente quando facciamo il deposito che abbiamo firmato con una modalità non consentita non vorrei che poi il fatto che si firmi con una modalità diversa da quella consentita possa dar modo a provvedimenti strani o pericolosi ecco perché io ribadisco sempre attenzione nel PAT solo la firma PADES questo per quanto riguarda quindi gli atti di parte vediamo gli allegati i documenti per i documenti i formati ammessi sono il pdf guardate anche qui il pdf è testuale ora ditemi voi pdf testuale perché perché pdf testuale dovrebbe essere o meglio è così soltanto se il documento che noi dobbiamo depositare è stato originariamente formato da un punto di vista informatico quindi anche quello è un documento nativo digitale immaginiamoci per esempio la delibera di una PA piuttosto che una richiesta di chiarimenti che viene fatta alla pubblica amministrazione è chiaro che teoricamente quella risposta potrebbe essere già effettuata in una modalità originale da un punto di vista informatico parlando tant'è che le regole tecniche prevedono che i documenti in formato immagine o pdf ottenuti da scansione possano essere depositati soltanto se gli originali degli stessi sono documenti cartacei ma se di quello stesso documento l'originale è un originale informatico e quindi io per esempio ne ho un duplicato posso tranquillamente devo tranquillamente anzi allegare il duplicato informatico in formato pdf testuale non posso allegare la scansione questa in ottica di digitalizzazione della pubblica amministrazione è sicuramente una cosa positiva ma non so quante siano le pia che oggi siano in grado di non solo elaborare e di fare in documento informatico nativo digitale un proprio atto ma poi anche di veicolarlo nella stessa forma perché solitamente lo si fa poi lo si stampa e lo si manda attraverso il fax invece di utilizzare per esempio la posta elettronica certificata sui formati consentiti oltre al pdf chiaramente scansionato il pdf testuale abbiamo anche i formati immagine jpeg tif gif quindi i formati eml e msg che sono i formati con i quali vengono veicolati solitamente le prove dell'avvenuta notifica di un deposito di una notifica effettuata per esempio tramite pec con ricevute di accettazione e consegna e anche qua i formati diciamo compressi e se volessi poi una copia di un provvedimento che è stato emanato dal Taro dal Consiglio di Stato potrò per esempio applicare la stessa norma del DL90 del 2014 che mi consente di estrarre dal fascicolo informatico copie e duplicati informatici attestandone io stesso eventualmente ove necessario la conformità e di utilizzarli senza pagare i diritti assolutamente no la pacchia tra virgolette come diciamo noi a Teramo nel processo amministrativo telematico non c'è dobbiamo necessariamente fare la richiesta di ciò che vogliamo rilasciato o sotto forma di duplicato o sotto forma di copia informatica dobbiamo fare richiesta alla segreteria del TAR richiesta sempre attraverso deposito di un modulo telematico l'unica cosa che ci viene concessa e voglio vedere insomma se anche questa poteva esserci negata la possibilità di utilizzare e di stampare ciò che c'è presente nel fascicolo informatico e di poterlo utilizzare come una copia uso studio come una copia diciamo uso ufficio ma se voglio copie conformi devo chiaramente pagare i diritti e devo farmi rilasciare dalla segreteria qua vi anticipo un'altra cosa che è veramente simpatica devo pagare i diritti ma non posso fare il pagamento telematico né per pagare le copie o i duplicati informatici né per pagare il contributo unificato perché è un processo tutto telematico tranne che per i pagamenti perché ancora non ci sono accordi con gli istituti di credito e non c'è un'infrastruttura che così come avviene per il civile dia la possibilità di collegarsi all'istituto bancario e di effettuare telematicamente il pagamento quindi dobbiamo necessariamente fare la scansione del contributo oppure pagare tramite l'F23 e già vi dico che per esempio a Milano sono stato proprio al Tar Milano a dialogare sul PAT e c'erano presenti anche alcuni operatori proprio giudiziari del PAT della segreteria e noi se non ci portano il contributo in originale non andiamo avanti perché qua parliamo di importi chiaramente molto ma molto più cospicui di quelli del civile quindi vogliono il contributo in originale ciò significa che io da Teramo potrò depositare il mio ricorso al Tar Milano al Tar diciamo della Lombardia ma poi dovrò avere qualcuno che mi farà la cortesia di depositare il contributo brevi mano perché altrimenti corro il rischio che il mio ricorso rimanga lì poi possiamo discutere possiamo parlare e faremo un altro convegno sulla possibilità che ha il cancelliere di bloccare il nostro ricorso fino a quando non viene pagato materialmente non viene andata la prova del contributo unificato ma questa è tutta un'altra storia che già anche nel civile vediamo io farei una statua a Daniela Dondi sotto questo aspetto quando in tempi non sospetti perché poi i problemi vedete quando i problemi si affrontano prima si affrontano anche prima quelle soluzioni che a quei problemi possono esserci in tutti i tribunali d'Italia c'è la possibilità la facoltà di fare il pagamento telematico Daniela ha imposto il pagamento telematico e mi trova perfettamente d'accordo loro sono meno d'accordo perché no guardate voi non vi rendete conto di cosa significa molti colleghi anche a Teramo nessuno è profeta in patria ho voglia di predicare fate il pagamento telematico non lamentatevi poi che la cancelleria di Pescara se voi non depositate l'originale vi tiene lì la busta e non ve la accetta scrivi al presidente denuncia fai quello che vuoi ma intanto il tuo atto rimane lì e il problema ce l'hai tu e con te ce l'hai il tuo assistito fai il pagamento telematico ora che mandi il contributo lo devi spedire per posta magari al collega che ti fa la cortesia di depositarlo a Pescara o devi prendere tu la macchina andare in tribunale fare la fila trovare il parcheggio e pagarlo quei due euro un euro e cinquanta di commissione te li sei ampiamente ripagati e non hai nessun problema facciamoli questi pagamenti con la giustizia amministrativa non potremo farli per cui chi non era d'accordo con quanto Daniela ha proposto non dico imposto diciamo proposto non era non era d'accordo si troverà bene perché qui potrà andare personalmente a portare il proprio contributo cartaceo in cancelleria poi magari a quel punto comincerà a pensare che Daniela tutti i torti non ce li aveva prova dell'avvenuta notifica per esempio se notifico il mio ricorso tramite UNEP o se notifico il mio ricorso tramite PEC attenzione perché notifica tramite UNEP che cosa dobbiamo fare dobbiamo scansionare il nostro ricorso che abbiamo notificato compreso dalla relata di notifica e di eventuali cartoline ove ce ne siano e dobbiamo attestare la conformità della copia informatica del ricorso qui abbiamo la scelta se utilizzare una delle due modalità quella più semplice è quella di inserire l'attestazione all'interno della copia informatica dopo la scansione sottoscrivendola poi con la firma digitale oppure se inserirla su un documento informatico separato come abbiamo visto prima ma in questo caso dobbiamo necessariamente inserire anche indicare l'esce e riferimento temporale una volta fatta la scansione attestata la conformità della scansione al ricorso originale cartaceo cosa dobbiamo fare dobbiamo allegare nella sezione notifica del modulo del deposito la copia informatica se l'attestazione di conformità è al suo interno o la copia informatica e in più l'attestazione di conformità se la facciamo su un documento informatico separato scusami Maurizio ripeto una cosa che ho già detto tante volte ma quando mi fu fatta la domanda mi aveva lasciato un po' sconvolta ci fu un collega che mi disse in merito alla prima opzione dice ma se io quando vado a scansionare il mio atto con tutte le relate io scansiono un foglio dove attesto la conformità non ricado nel secondo caso cioè del foglio separato ma io faccio un file unico con anche l'attestazione è direi un obbrobrio forse è poco ma attenzione perché noi andiamo a rilasciare un'attestazione siamo pubblici ufficiali e andiamo a rilasciare una conformità diversa da quello che è l'originale perché il nostro atto vero finisce con l'ultima cartolina o con il timbro dell'ufficiale giudiziario se io ci vado ad aggiungere un foglio vado ad attestare una conformità di un atto di forme e che ancora non c'è che ancora non c'è per cui sono escamottage che assolutamente non hanno un fondamento se non vogliamo e capisco andare a costruire l'asce e riferimento temporale perché perdiamo tempo non siamo bravi non troviamo l'applicativo e mi trovate d'accordo se attestiamo la conformità all'interno del pdf dove non abbiamo problemi di spazio perché possiamo usare anche un carattere piccolo se per caso abbiamo poca disponibilità eccetera tanto dobbiamo dichiarare e copia conforme alle regine e non commettiamo nessun falso attenzione perché se noi andiamo ad aggiungere dei fogli andiamo ad autenticare un qualcosa che non è più conforme all'originale che abbiamo noi prego sì sì dove hai spazio prima scansiono e poi faccio l'attestazione ma anche perché anche se sotto hai poco spazio i caratteri non è che devi usare per forza deve essere leggibile ovviamente se mi viene più comodo e più ordinato essere a margine lo faccio a margine l'importante è che ci sia non formalizziamoci perché poi lo devo firmare digitalmente però ecco dobbiamo attestare la conformità dell'originale che abbiamo noi in mano non andiamoci a inventare ripeto degli escamotage che non hanno senso assolutamente sì concordo perfettamente con quello che ha detto Daniela e vi dico anche che un po' più su di Modena nel rito ambrosiano invece si utilizza questa modalità che secondo me è assolutamente allucinante ha fatto bene Daniela a precisarla dunque attenzione perché oltre a inserire la scansione guardate bene il nota bene che c'è alla fine della slide oltre a inserire la scansione ove notificassimo tramite UNEP dobbiamo anche inserire però l'originale informatico del nostro atto del nostro ricorso sottoscritto digitalmente quale sarà l'originale informatico l'originale informatico sarà quello dal quale abbiamo stampato l'atto che poi abbiamo portato all'ufficiale giudiziario ecco perché così come diceva giustamente il consigliere dottoressa Ines Pisano del Tar Lazio nel processo amministrativo telematico avremo due originali quando notifichiamo tramite UNEP l'originale tra virgolette che scansioniamo e che alleghiamo nell'apposita sezione del modulo e in più l'originale informatico di quel determinato atto dal quale abbiamo stampato il cartaceo per procedere alla notifica perché l'originale informatico oltre che alla copia informatica perché l'originale informatico ad utilizzo di tutte le parti consente per esempio il copia e incolla ma poi non è questo il motivo principale perché comunque essendo un atto di parte abbiamo detto che gli atti di parte devono essere depositati in pdf non ottenuto dalla scansione di un cartaceo quindi attraverso un deposito che si è effettuato con un pdf da considerarsi originale informatico notifica tramite pec la notifica tramite pec un po' riprende quella della notifica civile tramite pec quando dobbiamo dare la prova della notifica da un punto di vista civilistico anche qui dobbiamo far riferimento a questo famoso modulo e dobbiamo allegare la ricevuta di accettazione in formato ml o msg quella di consegna è l'atto notificato estratto dalla ricevuta di consegna ai fini del deposito dell'atto anche qui dobbiamo comunque allegare l'atto notificato estratto dalla ricevuta di avvenuta consegna anche questo l'ho inserito proprio come un avvertimento con un nota bene affinché sia chiaro quando parliamo di ricevuta di accettazione e ricevuta di consegna in formato .ml o .msg sappiamo di che cosa parliamo vero? cioè faccio la mia notifica PEC dopo di che arriva la ricevuta di accettazione arriva la ricevuta di consegna devo salvarle sul mio computer non stamparle e scansionarle devo salvarle direttamente in digitale sul mio computer quindi ricevuta di accettazione prenderà il formato .ml se la scarico da webmail prenderà il formato .msg se per esempio io utilizzo Outlook e quindi la vado a scaricare attraverso Outlook entrambi i formati sono riconosciuti dalle regole specifiche tecniche del PAT e possono essere quindi tranquillamente allegati al modulo del al modulo del deposito e finalmente veniamo abbiamo fatto diciamo un percorso diciamo logico nel senso siamo partiti dalla norma abbiamo visto poi quali sono gli strumenti abbiamo visto come per esempio viene rilasciata la procura all'eliti il formato degli atti e dei documenti la prova dell'avvenuta notifica del ricorso che precede il deposito naturalmente del ricorso e a questo punto vediamo come deposito telematicamente gli atti e i documenti anche qui devo far riferimento alle regole tecniche in particolare l'articolo che ci deve guidare è l'articolo 6 delle regole tecniche del PAT con una vista con un'occhiata anche all'articolo 9 del regolamento quindi articolo 6 delle specifiche e articolo 9 del regolamento vedete che dai commi da 1 a 5 vengono indicate proprio le modalità attraverso cui si effettua questo deposito devo quindi utilizzare i moduli che sono presenti nel sito della giustizia amministrativa riempire quei campi indicati nel modulo in maniera diciamo testuale allegare a questo modulo gli atti e i documenti così come per esempio li allego nel redattore quando faccio un deposito telematico nel processo civile vediamo dove andare a prendere questi moduli questo sito o meglio l'immagine che vedete qui nella slide potrebbe essere diversa tra qualche giorno perché è un sito in continua evoluzione e anche i moduli che trovate all'interno cambiano di giorno in giorno perché cambiano di giorno in giorno perché quotidianamente vengono apportate delle modifiche modifiche che vengono elaborate sulla base dei risultati della sperimentazione che si è conclusa ripeto pochissimi giorni fa parliamo del 20 di maggio quindi praticamente un mese fa ora come ora noi entriamo per trovare questi moduli nel portale dell'avvocato oppure li troviamo naturalmente anche nella fase che ancora viene identificata processo amministrativo telematico sperimentazione entrando quindi cliccando sulla modulistica noi troviamo che cosa una pagina dove abbiamo la possibilità di reperire tutta quella serie di modulistica necessaria per il tipo di deposito che dobbiamo fare abbiamo diciamo il modulo per deposito del ricorso introduttivo degli atti successivi parti non rituali istanze antecausa richiesta alla segreteria non fate caso all'indirizzo di posta elettronica certificata che trovate indicato nella slide perché questo era relativo e valido soltanto per la sperimentazione troveremo poi sempre in questo sito a seconda del tar in cui dovremo effettuare il deposito l'indirizzo PEC da inserire direttamente nella nostra posta elettronica certificata per poter veicolare il modulo del deposito per esempio di un ricorso introduttivo in questo caso ipotizziamo proprio di fare il deposito di un ricorso e scarichiamo quindi il modulo deposito ricorso introduttivo è un modulo molto lungo sono diverse pagine io ho fatto delle slide che in sequenza lo diciamo illustrano in tutta la sua lunghezza in pratica non si tratta altro che di dover inserire man mano che troviamo le indicazioni delle informazioni all'interno di questo modulo e di inserire proprio anche i documenti informatici stessi anche qui vi raccomando una cosa ordine sul nostro computer una cartella dedicata per ogni deposito che dobbiamo fare non mettiamo non salviamo per esempio le scansioni dell'originale della notifica del ricorso piuttosto che le ricevute di accettazione e consegna tutte sul desktop o in una cartella generica se dobbiamo fare il deposito di un ricorso tizio contro caio in questa cartella mettiamo il documento che abbiamo scansionato le ricevute di accettazione e consegna se abbiamo fatto una notifica tramite PEC in maniera tale che sappiamo esattamente dove pescare tutti i documenti informatici spesso accade nel civile chiaramente l'esperienza è quella del civile accade che cosa che per errore si alleghi un documento informatico al posto di un altro magari si alleghi un formato pdf non firmato digitalmente al posto di un formato di pdf firmato digitalmente qui l'errore sarà ancora più semplice da verificarsi più facile perché non alleghiamo file firmati digitalmente in Cades dove abbiamo l'estensione del file che finisce in P7M qui alleghiamo file in formato .pdf è .pdf e sia il file firmato digitalmente in Pades che il file non firmato digitalmente quindi se io non vado a inserire e a prendere esattamente quel documento informatico firmato rischio di inserire qualcosa che invece è errato quindi attenzione anche all'ordine che abbiamo sul nostro computer ve lo dice uno che il suo desktop è pieno di documenti informatici quindi come si dice predico bene ma poi alla fine faccio tutto il contrario di quello che dovrei fare qua per esempio guardate iniziamo per esempio dalla sede selezionare la lista vedete ci sono quelle freccette quando vedete nel modulo del deposito quella freccetta vuol dire che è cliccabile editabile esce fuori un menu dove possiamo selezionare il tribunale nel quale dobbiamo effettuare il deposito